L'uso del cellulare, l'assunzione di alcol, le cattive condizioni stradali, il 70% alla guida non rispetta i limiti di velocità e la distrazione è la prima causa di incidenti. La Puglia si classifica al nono posto in Italia. Nella regione, secondo un'analisi del centro studi di Autoscout 24 su base da Tistat, nel 2022 ci sono stati oltre 9.000 incidenti stradali, ma se si confronta il dato con la popolazione, la regione è al tredicesimo posto con circa 237 incidenti ogni 100.000 residenti. Il tema della sicurezza è quindi prioritario e il nuovo codice stradale prevede, tra gli altri, l'inasprimento delle sanzioni per l'utilizzo del cellulare alla guida o per chi consuma alcol. Per ridurre gli incidenti, secondo gli utenti, non bisogna lavorare solo su comportamenti errati. È fondamentale, infatti, migliorare lo stato delle strade. A causa delle cattive condizioni di queste, infatti, oltre un quarto del campione ha causato o subito nella sua vita almeno un incidente, anche lieve. Cosa invece preoccupa principalmente gli utenti quando sono su strada? Sono gli altri guidatori e i pedoni, ovvero tutto ciò che può avere a che fare con la distrazione di altre persone. Considerando il 2022, anno in cui sono presenti i confronti regionali dell'Istat, su scala nazionale, al primo posto per numero di incidenti troviamo ovviamente, per una questione di dimensioni, la Lombardia, seguita dal Lazio e dall'Emilia-Romagna. Ma se confrontiamo il dato sulla popolazione residente, la situazione cambia nettamente. Al primo posto si classifica la Liguria, seguono a distanza la Toscana, l'Emilia-Romagna e il Lazio. Le più virtuose sono il Molise e la Calabria.